La Tercop torna sul piede di guerra col comune minacciando il ricorso alle vie legali in assenza di una soluzione sul canone di occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta COSAP. Questa volta però, dopo anni, lo fa affiancata dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Mentre il sindaco Brucchi e la sua finta giunta stanno litigando per una poltrona, noi vogliamo parlare della situazione vergognosa in cui versa la cooperativa Tercop che gestisce i parcheggi. Di fatto l'amministrazione li sta esasperando e condannando economicamente, in quanto da più di due anni non prende una posizione su quello che sarà il futuro della gestione di questi parcheggi. Infatti negli ultimi due anni ha continuato a eliminare gli stagli a pagamento per quanto riguarda la gestione di Tercop, ma dall'altra parte non li ha compensati economicamente. Ad oggi la Tercop quindi non può più far fronte a questi pagamenti. Si trova con un debito di 160 mila euro verso il comune, ma pretende un credito di 300 mila euro a causa di questa cattiva gestione. Ovviamente noi sappiamo e diciamo che questa situazione testimonia il fallimento politico della giunta comunale, è che da più di due anni non è riuscita a portare a casa l'approvazione del piano urbano del traffico, anzi ci sono state le dimissioni dell'assessore competente di Giovanni Giacomo e queste persone non sanno cosa fare, non hanno un futuro. Noi pretendiamo una presa di posizione chiara su quello che sarà il futuro della gestione dei parcheggi, pretendiamo che ci sia immediatamente un bando pubblico che sia o sulla proposta della Tercop o su qualsiasi altra proposta che vorrà fare l'amministrazione, ma ci dobbiamo muovere perché queste persone non possono morire economicamente e non possono perdere il posto di lavoro che è tanto caro al sindaco Brucchi.